La squadra mobile dell'Aquila ha arrestato una donna di 33 anni della provincia di Napoli perché trovata dagli agenti in possesso di due carte d'identità false valide per l'espatrio usate per aprire dei conti corrente in cinque filiali di banche che si trovano all'Aquila. La donna, in particolare lo scorso mercoledì, si è presentata presso un istituto di credito in via Corrado IV dopo averne già visitati altre in diverse parti della città nella stessa giornata e nei giorni precedenti. Una volta entrata in banca, la donna si è diretta allo sportello per aprire un conto corrente all'addetto commerciale, ha detto di essersi rivolta a quell'istituto di credito in quanto spinta dall'esigenza di trovare condizioni più favorevoli rispetto al conto di cui attualmente sarebbe stata titolare. Le è stato richiesto così un documento d'identità e un codice fiscale che la donna ha consegnato all'addetto della banca. Quest'ultimo ha riferito anche alla cliente di dover avviare tutta la pratica amministrativa quindi due si sono dati appuntamento nel pomeriggio della stessa giornata per concludere il contratto. L'impiegato della banca ha notato però insospettendosi che i documenti consegnati con la foto della donna apposta fossero intestati ad una persona originaria di Udine residente all'Aquila in via del Falco sebbene la titolare avesse un accento marcatamente partenopeo. Inoltre dagli archivi della banca è emerso che l'identità inserita sul documento fosse già accensita quale cliente di una filiale di Udine. A quel punto gli impiegati hanno chiamato la mobile raccontando quanto accaduto. La donna si è presentata all'appuntamento alle 14.30 presso la filiale si è diretta nell'ufficio dell'addetto commerciale ma ad attenderla non ha trovato il personale della banca ma la mobile che l'ha arrestata per possesso della carta d'identità valida per l'espadre o falsa. Addosso alla donna è stata trovata anche una ricevuta di una stanza d'albergo all'Aquila immediatamente gli agenti si sono recati presso l'albergo stesso che si trova all'ingresso della città e hanno perquisito la stanza sequestrando una ricevuta di apertura di un conto corrente bancario sempre a nome di una ragazza di Udine acceso lo stesso mercoledì presso un istituto di credito dell'Aquila diverso da quello dove si era recata una carta d'identità e un codice fiscale entrambi falsi intestati a un uomo di Padova residente all'Aquila e un foglio d'attilo scritto con un elenco di banche.